23 agosto 2022, messaggio di Nostra Signora Regina della Pace. Cari figli, coraggio! Il mio Gesù è al vostro fianco. Non tiratevi indietro. Egli vinse il mondo e mai vi abbandonerà. Confidate in Lui che vede nel segreto e vi conosce per nome. Vi chiedo di mantenere accesa la fiamma della vostra fede. Amate e difendete la verità. Vivete nel tempo delle grandi confusioni spirituali, ma coloro che sono con il Signore vinceranno. Quando tutto sembrerà perduto, la vittoria di Dio verrà per i giusti. Ancora avrete lunghi anni di dure prove, ma dopo tutto il dolore vedrete il trionfo definitivo del mio cuore immacolato. Il Signore asciugherà le vostre lacrime e i giusti saranno ricompensati per essere stati fedeli. Avanti! Quello che dovete fare, non lasciatelo per il domani. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.